Benvenuti su Meteo Giulianci. Che tempo farà nel prossimo fine settimana? Bene, arriverà alla fine di giovedì un nucleo di aria fredda ridosso delle Alpi, il quale poi nella giornata di venerdì si propagerà su tutta l'Italia, portando sì delle piogge, soprattutto al centro-sud, ma poca neve, ovviamente portando anche freddo su tutta la penisola. Ma andiamo con ordine. Come potete vedere, venerdì piogge sulle regioni di nord-est e centrale Sardegna, nevicate debole e moderate, sulle Alpi oltre 700-800 metri. Sabato ancora piogge su Emilia, Romagna, centro-sud e Sardegna, forti gelate sul nord Italia e nelle zone interne del centro. Domenica piogge su Molise, Gargano, Calabria e nord della Sicilia, ancora forti gelate sul nord Italia e nelle zone interne del centro. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.